Buonasera mister, allora, non bella la partita, la prestazione del Golfo Paradiso, però tre punti importanti. Me l'aspettavo, me l'aspettavo tutta la settimana che glielo dico ai ragazzi, sono quelle partite difficili, di arratto al Borzo, lì che ha fatto una buonissima prestazione, è stata dura, lo sapevo per queste partite qua, bisogna interpretarle bene, noi siamo stati bravi a soffrire nel momento importante della partita, e poi siamo riusciti a chiuderla, però sono partite che durante un anno, lo sappiamo, sono difficoltose, poi si è girata un po' di vento, io le chiamo quelle partite sporche che bisogna essere bravi e portarle a casa. Bene, e questo Massaro che siamo a 9 adesso? No, siamo a 11, ma Massaro io glielo ho detto a luglio, io glielo ho detto che andava in doppia cifra, è già a 11 gol alla 13 di una partita, è un giocatore importantissimo per noi, importantissimo per il Golfo, se riuscisse ancora ad alzare un attimino la sticella, questo diventerebbe veramente, veramente importante, a livello anche personale, perché fa delle cose straordinarie, poi si vedono, è il vero capitano della nostra squadra. E adesso domenica, Little Club? Domenica la partita è difficile, oggi hanno avuto una battuta d'arresto con l'Atletic, è partita che bisogna prepararla bene, le squadre di Somma sono sempre difficili da affrontare, e speriamo di recuperare qualcosa che abbiamo, comunque che è andato in campo all'ultimo, stavamo giocando con 3-2 mila ed va benissimo, sono contento perché i giovani devono dare sempre il massimo e devono essere sempre pronti a giocarsi in posto. Bene mister, alla prossima. Grazie. Grazie a voi.